Appena ho ricevuto la telefonata mi sono inginocchiata, ho detto grazie a Dio, perché mio figlio poteva essere un altro Gio Gio, un altro Francesco Pio, un altro santo. Poteva finire in tragedia l'aggressione subita sabato scorso da un giovane di 23 anni in Vico San Francesco ad Aversa, a pochi passi da Viaseggio a parlare sua madre Rossella che ci racconta quei drammatici momenti. Il ragazzo insieme ai compagni di un'associazione teatrale si era fermato dopo le prove per mangiare qualcosa prima di rientrare a casa. All'improvviso un gruppo di ragazzi li ha avvicinati e senza alcun motivo apparente ha iniziato a colpirli con ferocia. Hanno preso una birra e l'hanno lanciata sul viso di uno dei ragazzi. Mio figlio è quello che è stato picchiato di più, gli è stato rotto il naso con una ginocchiata, varie chimosi, sangue e tutto il resto. La paura dice ancora presente, i lividi sul corpo guariranno ma quelli nell'anima, come ci racconta Rossella, sembrano più difficili da superare. L'ho guardato e per me era bellissimo comunque perché era lì, era vivo e io lo potevo toccare. Nella stessa sera e nello stesso luogo, appena mezz'ora prima si era verificata un'altra aggressione, probabilmente messa in atto dalla stessa gang, vittime sempre giovanissimi. Per questo Rossella lancia un appello affinché episodi del genere non si ripetano più. Un rafforzamento dei controlli in zona, noi siamo stati comunque sostenuti dal sindaco, dall'aggiunta comunale. Deve essere maggiore solidarietà perché magari oggi sto facendo un'intervista ma ci sono altre mamme che non l'hanno fatta. Quindi ci potremmo unire e far sentire tutte insieme la nostra voce.